Come sta? Non te? Ma guardatevi eh! Eh, guardate! Non te! Eh? Che succede? No, no, in augurazione... E' tornato! Vai, dai! Sperato questo si va! C'è qualcuno che ci l'apre? C'è l'anno? Sì! Vieni, vieni moreno, mi incollo! Mi incollo? Oh mamma mia te! Vedo che cutatrizza quella c'è? C'è la padella, il zavagente... E' una fuga! Specifici e tecniche! C'è la padella della c'è? Ohän